TORNA IN LIBERTÀ Salto ha finito di scontare una condanna definitiva a 4 anni e 8 mesi di reclusione per associazione mafiosa, una pena scontata in parte ai Paierelli di Palermo e negli ultimi mesi invece nel carcere romano di Re Bibbia. Dopo aver scontato una precedente condanna a 12 anni per associazione mafiosa nel giugno del 2008, Salto era tornato libero, ma era stato nuovamente arrestato nel 2009, nell'ambito dell'operazione Cartago, condotta dai carabinieri del gruppo di Monreale della Compagnia di Partinico. Sfociata in 16 ordini di custodia cautelare per associazione mafiosa ed estorsione. L'indagine portò alla decapitazione delle cupole mafiose di Partinico e Borgetto, di cui Salto sarebbe stato il capomandamento. Ritenuto affiliato prima al clan De Vitale e poi a quello del boss di Altofonte, Mimmo Racuglia, Nicolo Salto, il 18 ottobre del 2008, è scampato miracolosamente ad un agguato mafioso. I sicari gli avevano sparato quattro colpi di arma da fuoco, colpendola alla gamba e alla schiena davanti all'ingresso della sua villa. Il suo legale di fiducia, l'avvocato Giovanni Anania, più di una volta aveva presentato istanza al giudice del Tribunale di Sorveglianza per chiedere gli arresti domiciliari a causa delle precarie condizioni di salute del suo assistito. L'assessore alle politiche sociali del comune di Alcamo ha avviato il servizio di assistenza scolastica a favore di alunni affetti da disturbo autistico che frequentano la scuola dell'obbligo. Il servizio, dichiara l'assessore Settipani, è stato avviato attraverso dei voucher destinati alle famiglie interessate che necessitano dell'assistenza proprio per garantire non solo l'efficienza del servizio ma soprattutto l'autonomia di una scelta di chi deve assistere. Attraverso i voucher, continua l'amministratore, le famiglie potranno scegliere tra gli enti accreditati con il comune e che forniscono personale qualificato. Ogni famiglia potrà liberamente scegliere l'assistente alla comunicazione più consono ai bisogni del proprio figlio. Il servizio è di sei ore settimanali che verranno distribuite in base alle esigenze del bambino e ricoprirà tutto l'anno scolastico. Garantire il supporto e l'istruzione di tutti, conclude Settipani, è la priorità che deve guidarci verso una politica della formazione e della costruzione di un'identità della lungimiranza. Ieri pomeriggio l'appuntamento col corso di formazione politico-sociale ha avuto come tema centrale la sudditanza e la cittadinanza nell'intento di scavare nei diritti che aprono la strada alla figura del cittadino consapevole. Sudditanza, cittadinanza, silenzio, motivazione. Quali sono le differenze e qual è il messaggio? Il messaggio è un messaggio positivo. Abbiamo preso consapevolezza, io penso che la gente ha preso consapevolezza che vi è una condizione di sudditanza diffusa. Cosa significa sudditanza diffusa? Significa che il cittadino non conta, significa che il cittadino non riesce a fare sentire la propria voce, significa che al cittadino non vengono riconosciute una serie di prerogative. In altri termini non c'è partecipazione, non c'è incidenza nelle scelte che riguardano il cittadino e soprattutto il cittadino non è valutato per quello che realmente è. Il cittadino paga le tasse, è il cittadino virtuoso, il cittadino che ogni giorno contribuisce con le sue opere, con la sua azione, col suo lavoro a determinare il reddito e sviluppo, è un cittadino che conta poco, quindi la sudditanza la vive. È suddito chi non ha un lavoro, è suddito chi non riesce a trovare un posto dentro un ospedale per curarsi, è suddito chi è costretto a mandare i figli all'estero, è suddito chi deve emigrare. Allora noi dobbiamo prendere la consapevolezza che il passaggio da una condizione di sudditanza a una condizione di cittadinanza si fa attraverso un lavoro di formazione delle coscienze e si fa attraverso un intenso lavoro formativo, informativo. Bisogna che il cittadino diventi tale solo se ha le necessarie informazioni. Ora dobbiamo prendere atto che l'informazione sia della carta stampata, sia delle reti televisive nazionali, quelle pubbliche, quelle commerciali, eccetera, è un'informazione che non aiuta il cittadino a prendere consapevolezza della propria condizione. Se ci fosse più informazione, se il cittadino avesse consapevolezza dei propri diritti, potrebbe meglio esercitare le proprie prerogative. Perché questo non avviene? Questo non avviene perché c'è chi ha interesse a determinare una condizione di sudditanza, di non informazione. I sudditi senza nome rappresentano una massa di manovra che può essere manovrata come la si vuole per continuare a praticare tutte le patologie degenerative che contraddistinguono la società italiana e in particolare quella meridionale. I clientelismi, gli affarismi, le mediazioni affaristiche e tutto questo ha ucciso la democrazia del nostro Paese. Ora noi dobbiamo prendere consapevolezza che viviamo in Europa, benché il tema dell'Europa sia scomparsa dall'agenda politica dei partiti. Nessun partito parla d'Europa, si ha paura a parlare d'Europa, eppure noi come compriamo il mangiare, come compriamo beni, come compriamo servizi se non con l'euro? Abbiamo una moneta unica che ci accomuna ad altri Paesi europei. Nel corso di formazione abbiamo trattato un tema grande, un tema assai importante per l'avvenire, un tema che veramente in un corso di formazione deve servire quantomeno a svegliare le coscienze, formare le coscienze da questo punto di vista, dare a ciascun cittadino la consapevolezza che le cose si possono cambiare se c'è un impegno e se si riesce a pretendere un cambiamento di rotta, la cittadinanza è consapevolezza di diritti. Ci vuole assai a capirlo. Un tema importante è quello affrontato stasera dall'Avvocato Boucher, dalla suditanza alla cittadinanza. Quali sono le riflessioni? Le riflessioni sono tante, sono stati affrontati tantissimi temi, quello ovviamente centrale riguarda il cittadino, il diritto all'accesso all'informazione, la possibilità e il dovere che ha il cittadino di conoscere i propri diritti e gli strumenti per difenderli. Il dottore Boucher mi ha dato tante dritte a coloro che hanno seguito questo corso proprio su questo argomento, che è un argomento centrale soprattutto rivolto al percorso che la politica deve fare per rinnovarsi ed avvicinarsi di più ai criteri e agli standard europei. Quindi quali sono gli appelli che possiamo lanciare alle istituzioni? Ad ascoltare di più, a tenere presente che i cittadini hanno dei diritti, ma l'appello va lanciato anche ai cittadini. I cittadini devono avere coscienza dei propri diritti e coscienza del fatto che comunque ci sono leggi che disciplinano strumenti importanti che servono proprio a rivendicarli nei confronti proprio della pubblica amministrazione. La Regione chiuderà un ente fantasma e cioè l'Agenzia regionale che si occupa di erogare pagamenti e servizi agli agricoltori, Arsea. Per espletare questi compiti siglerà un'intesa con la GEA, organismo equivalente che opera a livello nazionale. Secondo l'assessorato regionale alle risorse agricole, guidato da Dario Cartabellotta, il risparmio sarà di circa 2 milioni di euro all'anno. Considerato che la nuova struttura dovrebbe funzionare all'interno dell'assessorato e sarà potenziata da personale statale. Per l'Arsea invece erano previsti due sedi, un presidente da 150 mila euro all'anno e una pianta organica da 90 dipendenti, tra cui 5 autisti. Si chiuderà così uno dei casi più eclatanti di sprechi e mala burocrazia. In Sicilia l'Arsea non ha mai visto la luce. Nata nel 2006 non ha mai istruito nessuna pratica ed è rimasta una scatola vuota con due sedi, una a Palermo e una a Catania. Lo scorso 16 gennaio l'Arse ha votato una mozione impegnando l'assessore Cartabellotta a discutere entro un mese con Roma la possibilità di trovare un'alternativa per risparmiare. Miglioreremo il servizio, spiega l'assessore, accelerando i pagamenti e facilitando l'accesso alle pratiche. La struttura sorgerà presso l'assessorato. Entro un mese dovrebbe essere una realtà. Un incontro urgente al presidente della regione Rosario Crocetta lo ha chiesto l'Anci Sicilia con una lettera a firma del presidente Giacomo Scala e del segretario generale Mario Emanuele Alvano. La richiesta di un nuovo incontro, spiegano Scala e Alvano, nasce dall'esigenza di mettere ulteriormente sotto i riflettori i problemi che stanno mettendo in ginocchia i comuni siciliani. Nello scorso mese di novembre l'Anci Sicilia aveva già posto all'attenzione del governo regionale e dei prefetti dell'isola le conseguenze della drammatica situazione economico-finanziare dei comuni siciliani e il rischio concreto che ciò potesse portare a situazioni di dissesto. Denunciamo allora, si legge nella lettera del Lanci, che la progressiva e drastica riduzione dei trasferimenti statali agli enti locali non compensati attraverso meccanismi perequativi stava provocando pesantissimi effetti sui bilanci comunali e sull'erogazione dei servizi essenziali ai cittadini con conseguente aumento dell'attenzione sociale e con documento per l'ordine pubblico. Alcune amministrazioni hanno provato, scrive ancora Lanci, a fare fronte alle difficoltà di spesa ricorrendo all'aumento delle aliquide dei tributi locali che hanno causato ulteriori difficoltà ai propri cittadini, ma nulla hanno potuto contro gli stretti vincoli del patto di stabilità interno e ben poco possono rispetto all'assenza di risorse in cassa. A ciò bisogna aggiungere che non verrà corretta l'attuale previsione relativa al posticipo del pagamento della Tares a luglio. Un numero significativo di comuni vedrebbe ulteriormente aggravata la crisi di liquidità ed ancora destano enorme preoccupazioni, chiude Lanci Sicilia nella lettera, i tagli da parte della Regione delle risorse destinate ai comuni, così come previsto nel disegno di legge governativo numero 69. L'assessore alle risorse agricole e alimentari della Regione Sicilia, Dario Cartabellotta, pubblicato sulla Cazzetta Ufficiale della Repubblica, il bando di gara sull'affidamento, mediante procedura aperta, della progettazione preliminare e definitiva degli interventi di ammodernamento delle reti di distribuzioni principali a servizio del comprensorio Iato, con non sostituzione delle condotte in cemento amianto e realizzazione del sistema di misure e di controllo delle erogazioni. Il bando ha come obiettivo il ripristino di una tra le più antiche condotte siciliane. Si tratta del primo di una lunga serie di investimenti da realizzare sul territorio, dice Cartabellotta, allo scopo di creare una maggiore produttività oltre che una fonte di approvvigionamento idrico per le campagne. Gli operai del cantiere navale di Palermo e dell'Indotto torneranno in piazza lunedì prossimo per chiedere un incontro al governatore della Sicilia, Rosario Crocetta, e ai vertici di fincantieri sul rilancio del sito, dove per il 2013 sarebbero circa 450.000 le ore di lavoro previste. Un sit-in si svolgerà alle 9 davanti al Palazzo d'Orléà, dove per riaccendere riflettori sulla vertenza, FIM, FIOM e UILM hanno anche deciso di tenere simbolicamente un direttivo unitario. Secondo i sindacati, carichi di lavoro previsti per quest'anno sarebbero insufficienti a impiegare tutte le maestranze. Sono circa 180 su 504 gli operai dello stabilimento fingantieri in cassa integrazione. Al governatore Crocetta, dice Francesco Piastra della Segreteria Provinciale della FIOM, chiediamo risposte sull'avvio dei lavoratori per la ristrutturazione dei bacini di carenaggio da 19.000 a 50.000 tonnellate. E' un impegno concreto per il rilancio del sito. E alla fine Giuseppe Ferdico sarà imputato per mafia. Dopo tre richieste di archiviazione respinte, il giudice per le indagini preliminari ha deciso l'imputazione coatta per il re palermitano dei detersivi sotto inchiesta dal 2006. La notizia è stata diffusa dal giornale online Live Sicilia. Secondo il GIP Ferdico deve essere processato. I PM adesso dovranno formulare entro dieci giorni la richiesta di rivio a giudizio. Saranno loro a dover decidere se l'accusa contestata sarà di associazione mafiosa o concorso esterno. L'ipotesi del riciclaggio è infatti caduta. Poi la decisione finale spetterà ad un altro giudice, questa volta nell'udienza preliminare. L'accertata esistenza di rapporti di collusione e di complicità con soggetti inseriti o gravitanti nell'organizzazione mafiosa non appare sufficiente per ritenere provato il suo organico inserimento all'interno dell'organizzazione stessa. Ecco perché la Procura di Palermo nei mesi scorsi e per la terza volta aveva chiesto l'archiviazione dopo aver completato gli accertamenti disposti dal GIP. Il vento soffia dove vuole e ne senti la voce ma non sai né dove viene né dove va e così è chiunque nato nello spirito. Sono le parole di Gesù nel Vangelo di Giovanni e l'11 febbraio 2013 il vento a Roma è soffiato forte portando la notizia delle dimissioni di Benedetto XVI dal seggio pontificio. Il Papa ha rinunciato al ministero con decorrenza 28 febbraio. D'ora in poi il 2013 sarà ricordato nella storia dell'umanità come l'anno del gran gesto di di un Papa e di un pontificato. Sgomento, tristezza e incredulità. Debolezza umana, coraggio o intrighi? Possiamo parlare di intrighi o di qualcos'altro? Se sono intrighi ci sfuggono. Penso che sia un grande atto di coraggio di questo Papa che è lucidissimo perché qualcuno ha analizzato il modo con cui il Papa pronunziava il latino quella rinuncia. era nel pieno ed è nel pieno delle sue forze. Però chissà che cosa c'è dietro nel senso di malattia, che tipo di malattia, che cosa prevede per la sua salute e poi le forze, forze spirituali e forze materiali. Il discorso successivo alla rinuncia del mercoledì delle ceneri ci ha fatto capire qualche cosa. Il Papa ha parlato di fariseismo, ha parlato di lacerazioni nella Chiesa e in un testo della Via Crucis scritta quando era il Cardinale Ratzinger ha parlato di sporcizia nella Chiesa. Questo Papa che è tedesco ha avuto dinanzi a sé la lucidità di dire io non ce la faccio più, mi do alla preghiera. Questo è un grande atto di coraggio e di forza nella rinuncia. Cioè nel piano della fede è l'uomo che dice dinanzi a Dio, alla sua coscienza e al suo servizio Petrino. Io in questo momento, con queste forze, non arrivo più a governare la barca di Pietro. Dietro il coraggio però si può nascondere anche la paura, la debolezza? No, questo Papa non ha né paura né debolezza, non ha avuto paura quando dirigeva la congregazione della dottrina della fede, non ha avuto paura nell'affrontare i gravissimi problemi della Chiesa, quella la pedofilia era affrontato con coraggio, non ha avuto paura dinanzi al dissesto economico del Vaticano, dinanzi al tradimento del Maggiordomo. È stato un grande uomo di coraggio. Però è arrivato il momento in cui, a 85 anni, questo Papa dice il mio posto adesso è la preghiera. Qual è la speranza per il futuro? Un Papa che abbia la forza di rimettere in sesto la barca di Pietro. All'insegna dell'ospitalità, gli studenti dell'Istituto Comprensivo Enrico Bono di San Giuseppe Iato, accompagnato da loro e docenti, sono stati accolti dagli alunni e dai docenti, dal dirigente scolastico, professor Massimo Perrone, al Danilo Dolci di Partinico. Dopo la cerimonia di benvenuto, che ha visto i protagonisti, gli allievi impegnati in una mirabile attività d'accoglienza. E dopo che i docenti hanno illustrato il piano dell'offerta formativa, gli studenti iatini sono stati guidati dai loro compagni ospiti nella visita, negli ambienti scolastici, dai laboratori di cucina, sale e ricevimento, ai laboratori di informatica e alla palestra. Il tour si è concluso in dolcezza, con la degustazione di pietanze e dolci tipici del territorio, preparati per l'occasione dai ragazzi dell'indirizzo di cucina, seguiti dal loro docente, chef, professor Di Grazio. Ampiamente soddisfatti e piacevolmente stupiti dalla puntualità operativa dei ragazzi, hanno dichiarato d'essere il professor Vito Lamilia e gli altri docenti accompagnatori. Non ci aspettavamo che la scuola alberghiera fosse così ben organizzata, che i docenti fossero così attenti anche all'aspetto della crescita umana, oltre che di quella professionale dei ragazzi, è quanto affermato dai genitori presenti. Entusiasti si sono mostrati i ragazzi durante la visita, che hanno espresso la viva intenzione di iscriversi presso il Danilo Dolci. La missione del docente non sempre è facile, soprattutto per quanto riguarda l'orientamento formativo. Bisogna sempre tenere conto di tanti aspetti, sociali, ambientali, economici e non ultimo umani. Ma quando si assiste e si possono cogliere i risultati, come è accaduto, ci si sente ricompensati di ogni fatica. Questo è quanto sostiene la professoressa Mustacchia. E con lei concordano i professori Bruno e Fodarà. Tenere conto di quello che è la direttiva in ambito europeo per il POF è certamente fondamentale, ma bisogna sempre adeguarla a quelle che sono le molteplici esigenze del territorio. E bisogna, inoltre, tenere conto delle non cospicue risorse finanziarie di cui si dispone. È quanto sottolinea il professor Perrone, a chiusura della manifestazione. Cittadini e diritti negati. Incontro pubblico per un'amministrazione al servizio della comunità, dove i diritti al lavoro, alla salute, alla giustizia, all'istruzione, siano rispettati e garantiti e soprattutto costituire attività prioritaria dei governi nazionale, regionale e locali. Se ne parlerà lunedì prossimo, 18 febbraio, al Teatro Cristal, a partire dalle ore 18. Dopo gli interventi di cittadini e pubblici funzionari riguardo a paradossi di servizi e sprechi nella pubblica amministrazione e conseguenti proposte operative, gli attori Maglio Dovi e Toni Di Stefano intratterranno tutti gli intervenuti. L'appuntamento dunque per lunedì 18 febbraio al Teatro Cristal di Palermo alle ore 18.